4 aeroporti sono meglio di 2. Lo ha spiegato Michele Emiliano, il presidente della regione Puglia, annunciando il riconoscimento attribuito ad aeroporti di Puglia con decreto interministeriale quale prima rete regionale aeroportuale italiana. Un riconoscimento prestigioso che consentirà una crescita integrata degli scali pugliesi e determinerà la sostenibilità del medio lungo periodo anche di Foggia e Taranto Grottaglie. Aeroporti di Puglia è la prima rete aeroportuale italiana. Il riconoscimento è arrivato con un decreto interministeriale e ci consentirà di difendere, anzi di aumentare gli investimenti anche sugli aeroporti con minor traffico passeggeri, come quelli di Foggia e di Grottaglie, di utilizzare le maggiori entrate sugli aeroporti di Bari e di Brindisi per sostenere i costi anche degli aeroporti con minor traffico passeggeri. Questo in vista dell'allungamento della pista di Foggia per consentirne l'adibizione a base della protezione civile e ovviamente nella speranza che sia Foggia che Grottaglie siano anche oggetto di interesse da parte di private compagnie anche se possibile con qualche sostegno da parte della regione Puglia. Insomma se fino a ieri ogni anno era in discussione il classamento di questi aeroporti e c'era il rischio che l'ANAC o il Ministero ci chiedesse di valutarne la superfluità, oggi nel momento in cui tutti e quattro gli aeroporti pugliesi sono entrati nella rete diventano parte sostanzialmente di un'unica gestione e sono tutti e quattro validamente a servizio delle esigenze produttive turistiche della regione Puglia e quindi questo ovviamente è un risultato, è la prima regione italiana ad ottenere questo prestigioso riconoscimento che deriva da una direttiva europea poi tramutata in una legge italiana. Siccome noi abbiamo quattro aeroporti, e quattro aeroporti sono meglio di due, però due di questi sono meno redditivi, creano meno guadagni degli altri due, con questo sistema noi possiamo utilizzare i guadagni di Bari e di Brindisi su Foggia e su Grottaglie senza essere oggetto di eccezioni o di contestazioni da parte del Ministero. Questo ovviamente rafforza la rete ed impedisce che in futuro qualcuno ci chieda di chiudere uno dei due aeroporti meno importanti o comunque meno trafficati in questo momento. Il direttore del Dipartimento Salute della regione Puglia, Giancarlo Ruscitti, dopo aver ottenuto lo scorso giovedì il via libera dal Ministero dell'Economia per la stabilizzazione dei lavoratori precari nel comparto sanità che rientrano nei parametri fissati al decreto Madia e che hanno quindi maturato il diritto all'assunzione, incontra oggi a Bari le organizzazioni sindacali di categoria. Sono 1680 i contratti a tempo indeterminato garantiti, ma il numero dei precari, tra medici, infermieri e tecnici, è stimato almeno al triplo. Ecco quindi che occorre individuare i criteri, le modalità e i tempi per avviare e portare a compimento un percorso di importanza vitale per la qualità della sanità pubblica pugliese, con l'annessa definizione degli elenchi degli aventi diritto. Il coinvolgimento dei sindacati, prima ancora che delle stesse ASL, ha l'obiettivo di scongiurare ricorsi che rischierebbero di dilatare ulteriormente l'iter burocratico e arrivare a soluzioni condivise. Ancora chiuso invece il capitolo relativo alle nuove assunzioni, altrettanto delicato alla luce della necessità di colmare il vuoto lasciato nelle piante organiche dei lavoratori andati in pensione dal 2008 al 2016 e che non è stato possibile sostituire per il blocco del turnover. Sono 4.000 unità, ma il Ministero è legato alla possibilità di procedere a nuove assunzioni alla riduzione della mobilità passiva che incide per una cifra oscillante tra 180 e 200 milioni di euro sul bilancio regionale. Un'impresa tutt'altro che semplice perché proprio la carenza di personale che incide pesantemente sia sulle liste d'attesa che sulla qualità e quantità dell'erogazione dei servizi è una delle principali cause del ricorso a strutture di altre regioni per assistenza e cure. Azzeramento della giunta, diminuzione degli assessori, esecutivo tecnico, procedura di dissesto guidato. Sono queste alcune delle richieste sul tavolo del coordinatore provinciale di Forza Italia Raffaele Di Mauro e che interessano l'ultimo scorcio di amministrazione Landella. I partiti che formano una nuova maggioranza critica nei confronti del sindaco non sono ancora stati convocati mentre il coordinatore cerca di rimettere in piedi la squadra di governo, dialogando con Franco Di Giuseppe, Bruno Longo e Paolo Agostinacchio, ossia con chi, per dirla con le parole di Bruno Longo, rappresenta il minoritario e sparuto gruppo di maggioranza. Mentre Lega e Fratelli d'Italia e Opposizione Interne difendono le loro ragioni e hanno già mostrato i muscoli a Landella, anche gli alleati del sindaco non ci stanno a tirare avanti senza prospettive. Le tappe sono due, entro il 15 aprile dovrà essere data una risposta alla Corte dei Conti su un monitoraggio semestrale dei conti pubblici ed entro il 30 aprile si dovrà votare il bilancio. Dopo questi due passaggi importanti, commenta Bruno Longo, potremmo anche andare a casa se la situazione non dovesse cambiare. Se non ci saranno i numeri infatti non è pensabile trascinarsi come sabato scorso o allargare la maggioranza. A quel punto prosegue Longo, sarebbe opportuno farsi promotori dello scioglimento del Consiglio Comunale piuttosto che subirlo. Potrebbero esserci delle novità importanti nelle indagini sulle presunte estorsioni ad un imprenditore agricolo di Foggia che vede coinvolto Rocco Moretti, esponente di spiccol della società La Criminalità Organizzata Foggiana, arrestato il 9 ottobre dello scorso anno con Domenico Valentini, con le accuse di tentata estorsione e porto abusivo di armi da fuoco sia comuni che da guerra, aggravati dall'aver agito col metodo mafioso. Domani infatti, presso la direzione distrettuale antimafia di Bari, si svolgerà l'incidente probatorio dalla quale potrebbe emergere anche elementi relativi all'omicidio di Matteo Lombardozzi, il cinquantenne ucciso sullo statale 16 tra Foggia e Sansevero il 15 luglio scorso. Secondo quanto emerso alle indagini, lo ricordiamo, i due arrestati da tempo minacciavano un imprenditore agricolo perché pretendevano 200.000 euro. A minacciarlo, come aveva denunciato la vittima, sarebbero stati esponenti del clan Moretti, prima con minacce verbali, successivamente anche con impercosse e con la minaccia di armi comuni da guerra, tra cui un Kalashnikov. Se avesse pagato non avrebbe avuto problemi con la sua attività, minacce rivolte anche da alcuni dei suoi familiari e dipendenti. Nel corso delle indagini, inoltre, è emerso che Lombardozzi era uno dei dipendenti dell'imprenditore agricolo. Non è escluso, ma è solo un'ipotesi, che Lombardozzi si sia messo in mezzo per evitare problemi al suo datore di lavoro, intermediazione che potrebbe non essere stata gradita a qualcuno. Ma questo, lo ribadiamo, è solo una ipotesi investigativa. È una trama senza fine, quella di CSRL, la società dei rifiuti che si occupa di Cerignola, dei cinque reali siti e dei tre comuni della BAT. Dopo le dimissioni del presidente del consorzio, Franco Metta, che nel frattempo è passato in minoranza, il primo cittadino di Trinitapoli, Francesco Di Feo, vuole vederci chiaro sui conti e sulla gestione del sindaco cerignolano e ha chiesto i bilanci della società ed inoltre se potrà essere garantita o meno la continuità aziendale. Da dove invece non ci dovesse essere la continuità aziendale, sostanzialmente andremo dal presidente Emiliano e chiederemo che si occupi direttamente di tutta la gestione dell'impiantistica e che possa una volta per tutte guidare quel processo che porta alla chiusura di questa fase e ne riapre una nuova. La settimana pasquale è stata caratterizzata da attacchi vementi da parte del sindaco Metta nei confronti dei suoi colleghi, nonostante per tre anni abbia deciso quasi in maniera esclusiva il destino di SIA, oggi soffocata da debiti e dalla mancata sottoscrizione dei contratti di servizio. Sono anche il frutto di voler a un certo punto deresponsabilizzarsi al fine di appunto scaricare quelle che sono responsabilità precise che come dicevo nelle scorse volte hanno una firma e un nome e cognome che è appunto Franco Metta. Mi rendo conto che non è facile essere presidente di un consorzio e fare il sindaco ed è anche frutto del fatto che forse non siano gli attributi per poter rivestire determinati ruoli. Lo stesso contratto che Metta dice di aver sottoscritto con il Comune di Cerignola è un contratto che in realtà non esiste perché non abbiamo ancora visto noi la firma digitale apposta sul contratto da parte del Presidente Devenuto. C'è la sua firma e quella di Devenuto. I contratti devono essere sottoscritti da entrambe le parti. L'obiettivo è riconnettere i piccoli comuni della provincia di Foggia attraverso una terra stradale che colleghi i caselli autostradali della A16 presso Candela e della A14 presso Poggio Imperiale. La proposta avanzata dai socialisti è sottoscritta dai sindaci del territorio. Ora dovrà passare al vaglio della provincia di Foggia ed il Presidente Francesco Miglio affinché si faccia promotore dell'iniziativa portandola sui tavoli tecnici regionali. Il progetto infatti viene da lontano ed è fermo al 2011 data dell'approvazione ma necessita dei finanziamenti statali per infrastrutture che riguarderebbero diverse cittadine come Orsara, Alberona, Castelluccio, Valmaggiore, Casa Nuomo, Monte Rotaro e Bovino. La strada regionale 1, commentano i sindaci, può portare un concreto miglioramento alla viabilità interna del subappellino d'Auno per i residenti, per le attività produttive e per i tanti turisti che potrebbero recarsi sul territorio ma che allo stato attuale sono sfiduciati dalle condizioni disastrose in cui versano molte delle nostre strade. Ora attendiamo solo che il Presidente della provincia Francesco Miglio accetti il nostro invito ad avviare un tavolo di confronto interessando anche la regione e l'invito del segretario provinciale del Partito Socialista Michele Santarelli per realizzare la strada regionale 1. Diventerà impossibile non passare dei fondi del Comitato Interministeriale per la programmazione economica. Casino, gioco d'azzardo, veline e auto da corsa. Sembra il classico copione di una puntata di Emi gratis ma quella andata in onda lunedì di Pasquetta facendo registrare oltre il 10% di share ha riservato non poche sorprese ai telespettatori abituati al solito comportamento irriverente dei comici foggiani. Come avevano già anticipato al Tg Blue, Pio e Amedeo erano in compagnia di un ragazzo autistico Michele Dell'Oglio e cercando di sfruttare le sue incredibili abilità matematiche per i loro loschi scopi hanno di fatto realizzato tutti i suoi sogni. Michele passa gran parte della sua giornata all'Assori, la onlus foggiana che da 35 anni si occupa di ragazzi con handicap e di inclusione sociale. Questo centro che vedete qui è l'ultimo nato, è un centro sociale proprio dedicato alla inclusione delle persone con disabilità. Noi qui facciamo sempre attività integrate e questa è la cosa bella perché cerchiamo di offrire non il solito diurno dove ci sono solo persone con disabilità ma delle situazioni integrate dove ragazzi con e senza disabilità crescono insieme, imparano insieme. Michele ha preparato la merenda per tutti, un'attività che svolge ogni giorno? Sì, questo è un laboratorio didattico, è la pizzeria dell'Assori, è un laboratorio quotidiano, Michele svolge questa attività praticamente quasi tutti i giorni. Ti piace cucinare? Mi piace cucinare, coca pacchione, pizza, panzerotti, poi coccole, ti ha portato a Sherwood e ti invita a casa sua quando è il compleanno. Poi vado a trovare di nuovo a Pia Meri, glielo chiedi a Luca, io voglio andare a trovare di nuovo le ragazze, mi piace. Oggi è invidiatissimo dai suoi compagni ma lui non si è montato la testa. Tu la conosci a Chiara? Ferragni? Sì, ah, dove è Chiara Ferragni? È stata un'esperienza che mi ha dato una cosa che lui non avrebbe mai potuto avere, perché lui piace molto viaggiare. Lui da piccolino è iniziato il tutto con i cavallucci che gli facevano le mamme dell'Assori quando era bambino, quindi era una forma di rinforzo per fargli fare poi le cose. Come è la quotidianità di Michele? La quotidianità è, ecco, lui in casa praticamente sta con noi da solo, si mette vicino al computer, ascolta la musica. In Italia, a parte l'Assori che viene a fare le attività, per quanto riguarda l'autismo, soprattutto per adulti, non c'è niente, perché loro devono stare in mezzo alla gente. Per mandarle in mezzo alla gente c'è uno che comunque lo introduce. Le istituzioni devono aiutare, il privato che funziona. Michele era accompagnato da Luca Iacobucci, che lo segue da oltre 15 anni. In America è stato molto bello, però l'esperienza bella è stata che si è andato sulle macchine da corse, 207 all'ora, sono andato a dormire al 59esimo piano, poi sono andato nell'oceano di Santa Monica e le Giostre. Un'esperienza che non dimenticherà mai? Non dimenticherà mai, è stato un suo sogno realizzato. Pia Medeo hanno molto puntato su questa cosa, ha detto noi lo dobbiamo trattare, si vede durante la puntata, lo dobbiamo trattare come uno di noi. È stato un modo per far capire a tutte le persone che hanno questo tipo di problemi che le cose si possono fare, si devono fare. Certo, certo. Non è la cura di una malattia a cui dobbiamo puntare, ma al miglioramento della vita, a migliorare la qualità della vita. Ci saluti Michele? Certo, a migliorare la trovarà. Certo. Ciao. Ciao.